un pareggio importante un pareggio importantissimo sapevamo incontrare una squadra forte in un campo duro dove loro è difficile buttare la palla giocano bene calcio e corrono tantissimo abbiamo fatto la nostra partita a viso aperto abbiamo avuto delle occasioni come loro e niente è andata bene adesso però bisogna cominciare a fare prestazioni anche in casa soprattutto i tre punti speriamo di cominciare già domenica in casa con la Reggiana e niente andiamo avanti così la parata più difficile oggi? quella col piede quella sul primo palo col piede hai preso distinto? sì 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 perché erano in due sulla palla è arrivato quello dietro ha calciato quello dietro c'è qualche recriminazione su un paio di episodi? si vocifera che forse ci stavano i rigori ma ancora no non ho avuto l'opportunità di guardare le immagini però dicono che quello su Maracchi c'era però dopo non ho ancora visto non posso giudicare la difesa tiene bene quattro trasferte e un solo gol subito? stiamo facendo bene dietro e come del resto tutta la squadra però anche oggi sono stati 15-20 minuti dove loro ci hanno chiuso lì e sono stati bravi a tenere a tenere botto il merito del portiere o merito di tutti? il merito di tutta la squadra di tutta la squadra sicuramente però con le luci così lì davanti è un'altra cosa è un'altra cosa è sì Leo e Rani molto bravi prossima come la vedi? sono tutte difficili le partite dipende da noi come approcciamo la partita se approcciamo come giochiamo fuori casa possiamo fare però